Questa mattina percorrendo la scalinata di via Piemonte mi è sorto un dubbio. È una semplice scalinata di paese oppure ho attraversato la giungla, con aggiunta di insetti su tutta la sterpaia? Perdonatemi l'ironia, ma ponga a voi la domanda in quanto so che non lascerete passare il tutto inosservato. E questo è il messaggio arrivatoci stamattina da Sara di Grazio. La giovane, riferendoci di non essere una residente ma una cittadina di passaggio, ha potuto constatare la folta vegetazione spontanea presente lungo la scalinata di via Piemonte e armata di smartphone ha scattato sei foto e ce le ha inviate. Da come si può ben vedere, in effetti la scalinata si presenta trascurata, con erbacce che invadono anche la parte calpestabile, con tutte le problematiche che ne possono seguire. Ha ragione la cittadina nel dire che non lasciamo passare il tutto inosservato. È proprio per questo che rivolgiamo un appello all'assessore Lillattardo e al signor Giuseppe Pullara, responsabile del servizio, affinché si dia giusto decoro a quella che è un'importante via di collegamento tra la zona Luna e il piazza Don Giustino, centro della città. Siamo sicuri che anche questo invito verrà ascoltato da chi ci amministra e che nel giro di poco tempo la scalinata potrà ritornare a essere percorribile senza alcun impedimento.